Ben tornati su C per TV inizia una nuova settimana oggi il 18 febbraio 2019 molto velocemente 5 round max body weight bench press e max straight pull up come al solito pace e scalature sulla grafica qui di fianco ci rivediamo domani per un altro body insieme C per TV